C'è la nota congiunta, questa è la cosa divertente, siamo di nuovo... Il tweet congiunto. Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini e Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo, i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani. Lo riferiscono note della Lega e del Partito Democratico, perché ormai siamo a questa nuova moda. Ma è bellissimo perché è uguale, è proprio speculare identico. E' in rima baciata. E' congiunto, come si sapeva. Questo vuol dire che quei nomi di ieri non ci sono più. Esatto. E si lavora dentro la maggioranza di governo, questo è un indizio interessante. A me sembra... Draghi mi sembra salire oggi. A me sembra... O salgono nomi che non sono Draghi, ma stanno... non sono più i nomi nel centro-destra, quindi è saltata quella cosa. A me sembra che, dalla battuta di Giorgetti e anche quello che diceva Fassino, oggi stanno provando a capire quale sarebbe il... Che poi il nodo vero, sempre dall'inizio di tutta questa questione, quale sarebbe il governo dopo Draghi se Draghi va al colle, no? Oppure cosa farebbe Draghi se un altro andasse al colle. O cosa farebbe Draghi se un altro andasse al colle. No, no, a questo punto...